Amici di Mafra, benvenuti ad Autopromotech 2019, la biennale dedicata al mondo delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico. La manifestazione comprende una vasta e completa esposizione di aziende protagoniste del settore post vendita automotive ed un calendario pieno di convegni e tavole rotonde sui temi più attuali per il mercato. Su una superficie di 162.000 metri quadrati, Autopromotech presenta tutti gli attori dell'aftermarket automobilistico, dalle attrezzature per officina ai ricambi, dai pneumatici al car service, dai lubrificanti agli utensili. Come da tradizione, Mafra si presenta ad Autopromotech con tutta la sua offerta di prodotti dedicati al car wash e alla cura dell'auto, a cominciare da UnicaLine, una gamma rivolta a chi vuole offrire un servizio di assoluta eccellenza. A Bologna Mafra espone le ultime novità, PR2, il prelavaggio schiumogeno ad alto potere detergente e BX1, lo speciale detergente schiumogeno destinato ai box self. Linea unica Mafra, massima tecnologia e innovazione del reparto Mafra per quello che riguarda i prodotti per l'autolavaggio self-service. È un vestito su misura fatto per i clienti più esigenti. Facciamo prove in loco con taratura dell'impianto e cartellonistica dedicata. Credetene l'innovazione. Sempre per i professionisti del lavaggio, Mafra propone la gamma Best Selection. Presentiamo la linea Best Selection di Mafra, che come lo dice la parola stessa è la migliore selezione dei prodotti Mafra per l'autolavaggio, racchiusi e raggruppati in un'unica linea caratterizzata da una stessa profumazione e dalla stessa tanica azzurra per tutti i prodotti. Sono stati suddivisi in categorie corrispondenti a codice colore internazionale, quindi abbiamo prelavaggio, schiumogeno, cera, prodotto cerchi ed è particolarmente adatta a tutti quegli impianti, quegli autolavaggi con dei problemi o delle difficoltà nella taratura degli impianti. Da qualche anno Mafra è impegnata nella diffusione della cultura del car detailing, disciplina in forte espansione, grazie alla quale è possibile far tornare a splendere come nuova qualsiasi vettura. Labo Cosmetica è la divisione creata appositamente per sviluppare prodotti di altissima qualità, studiati per soddisfare le esigenze dei dettagli professionisti. Tutti i prodotti sono sviluppati nel centro ricerca e sviluppo dell'azienda e ne esposano perfettamente la filosofia, volta a fornire al mercato prodotti dalla massima semplicità di utilizzo, in grado di supportare il lavoro dei professionisti e la qualità del made in Italy. La gamma di prodotti Labo Cosmetica è in continua espansione ed in fiera sono state esposte le ultime novità. Ductile, detergente multiuso efficace su ogni tipo di superficie sia interna che esterna. Derma Cleaner, detergente rivitalizzante ideale per la pulizia di qualsiasi rivestimento in pelle. Derma Sealant, sigillante per pelle che protegge le superfici creando una barriera chimico-fisica impermeabile e antisfregamento. Omnia, pulitore per interni auto che concentra in un unico prodotto, tecnologia e innovazione. Ad Autopromotech sono stati svelati anche i nuovi coating Labo Cosmetica, vera e propria rivoluzione per la protezione della vernice. STC, Blindo, SEM e HPC. Un'offerta completa con prodotti a base nanotecnologica, facili da applicare e che rispondono ad ogni esigenza delle tele professionista. Il grande giorno è arrivato finalmente, siamo a Bologna e oggi presentiamo tre nuovi coating che si affiancono al coating STC dedicato a tutti i nostri Mafra Point e Labo Cosmetica Point. Il primo prodotto si chiama Blindo con alto contenuto di resina, intanto è vero che l'abbiamo chiamato Resin Hard Coating, quindi è quasi un secondo layer di Clear Coat che noi diamo alla vettura, talmente duro e questo prodotto sarà venduto solo agli autorizzati. Poi abbiamo HPC che è un prodotto che può essere applicato sopra a Blindo, quindi un top coat con una grandissima capacità di autopulizia. Poi abbiamo SEM che è un stand-alone, una grande capacità, un giusto equilibrio di diurezza e idrofobicità. Blindo sarà venduto con HPC presso i professionisti, dedicato al mondo dei professionisti, mentre SEM e HPC saranno venduti anche al pubblico, quindi vendita online. Quindi diamo la possibilità finalmente a tutti da poter provare la nostra nuova linea coating. Autopromotech 2019 è l'occasione per presentare al settore della carrozzeria i nuovi polish di Mafra, una gamma destinata a diventare il punto di riferimento del mercato. Il nuovo ciclo di lucidatura è composto da tre prodotti, Corrector 2.0, Illumina 2.0 e Splendida. Tre prodotti destinati a cambiare il concetto di polish, grazie alla loro versatilità e velocità, renderanno più veloce la lucidatura. L'ampia offerta di prodotti Mafra comprende anche soluzioni dedicate ai professionisti dell'autoriparazione. La gamma comprende prodotti per ogni esigenza, sbloccanti, lubrificanti, detergenti, grassi, protettivi, guarnizioni siliconiche, liquidi per freni e circuiti di raffreddamento. Non solo prodotti professionali, ma anche soluzioni per chi ama dedicare del tempo alla propria vettura. Hobby Line di Mafra offre soluzioni sia per la pulizia, ma anche per la cura estetica e per conservare un ambiente piacevole all'interno del veicolo. Ad Autopromotech Mafra presenta la sua nuova linea di profumatori spray Pop Heart, ideali non solo per l'auto, ma anche per qualsiasi ambiente. Pop Heart si compone di sue fragranze uniche e ricercate. La sua grafica è molto accattivante e coloratissima. Le sue fragranze sono state selezionate tra decine. Abbiamo selezionato quelle più maschili, coloniali, e quelle più femminili, sicuramente più dolci. La sua caratteristica particolare è quella di avere un tappo in gomma impregnato di profumo, al quale il cliente può avvicinare le narici e scegliere la fragranza che più gli aggrada. L'abbiamo definita aromaterapia per auto. In realtà è un prodotto che può essere utilizzato sia all'interno dell'abitacolo che negli ambienti di casa per mantenere un profumo più duraturo ed eliminare i cattivi odori. Noi abbiamo definita la pop terapia e siamo sicuri che sarà un prodotto che avrà un successo incredibile. Lo staff Mafra ha accolto numerosi visitatori allo stand, illustrato i prodotti dell'azienda e risposto alle domande dei professionisti interessati ad offrire un servizio sempre più di qualità che consente di distinguersi in un mercato molto competitivo. Grazie per la visione!